Ultime notizie Se sei un vero tifoso rossonero e vuoi tenerti aggiornato sulle ultime notizie e analisi sul calcio italiano, sei nel posto giusto. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un like per supportare i contenuti. Insieme, terremo d'occhio ciò che accade al Milan e condivideremo la nostra passione per il club. Il Fenerbahce ha presentato una nuova offerta per il centrocampista del Milan Radek Runic, ma secondo quanto riportato non è ancora considerata accettabile. Secondo le ultime notizie riportate da Sport Mediaset su Italia 1 via Milan News, il Fenerbahce non molla la presa su Krunic e nelle ultime ore, tramite intermediari, ha fatto pervenire al Milan una nuova offerta per il bosniaco da 8 milioni di euro. La proposta del club turco, però, è ancora considerata troppo bassa dalla dirigenza rossonera, che continua a chiedere almeno 12 milioni di euro per la sua cessione. Le parti continuano a parlare, le trattative proseguono nella speranza di trovare presto un accordo, ma il Milan potrebbe rimanere fermo sul prezzo richiesto perché dovrebbe andare a spendere per un sostituto. D'altronde Stefano Pioli non nasconde di riporre in Krunic un'immensa fiducia per la sua capacità di ricoprire diversi ruoli. Ora, cari rossoneri, mi dite cosa pensate abbia fatto bene il Milan a non accettare? Lasciate la vostra opinione nei commenti. Iscrivetevi al canale, guardate gli altri video e rimanete sintonizzati, perché da un momento all'altro porteremo notizie dal Milan.